La ormai 30 anni vive ad Acate, in provincia di Ragusa, seconda in Sicilia per nascite con malformazioni, ma nell'animo di Riccardo Zingaro. La voglia di cambiare le cose anche a molta distanza dalla casa nativa, e cioè Andrea, dove ha ancora affetti ed origini, non è cambiata. Una voglia che è andata ben oltre e che ha permesso di passare dalle parole ai fatti, sino a denunciare più volte, non solo sui social, ma anche e soprattutto alle istituzioni. Un suo esposto in procura in particolare ha permesso di arrivare ad individuare un sito di stoccaggio di rifiuti tossici pericolosi, sempre nel territorio ragusano, con un blitz delle forze dell'ordine che ha portato anche a diversi arresti, dalle parole ai fatti, così come qualcuno che questa notte dopo le minacce è passato alle vie di fatto, incendiando l'autovettura di Riccardo Zingaro parcheggiata nei pressi di casa sua, ad Acate, per spaventarlo. Un atto intimidatorio, vero e proprio, prontamente denunciato, ma il ramarico è davvero tanto. Da anni mi batto per la denunzia di tutto l'inquinamento sul nostro territorio, ho postato foto sul Facebook, sui social, ma soprattutto ho fatto denunzie alle autorità competenti sui atti criminali, mafiosi che si stanno avvicendando in questi giorni e le nostre croniche ne sono piene. E niente, vuol dire che abbiamo raggiunto dei punti di non ritorno. Abbiamo sentito Riccardo Zingaro piuttosto provato dell'accaduto, ma la sua voglia di proseguire nell'azione di denunce, soprattutto di difesa della popolazione, non è stata minimamente scalfita. Secondo Zingaro, la democrazia si può dire sia morta con questo atto, ma gli attestati di stima e vicinanza, le parole di numerosi deputati e senatori della politica locale e nazionale non solo, fanno ricordare all'attivista andriese che è necessario combattere contro la mafia e contro le storture di chi decide di avvelenare la propria casa e il proprio territorio. Spero che il mio gesto non resti, il mio impegno nel sociale non resti un caso isolato, perché purtroppo sono stato troppo lasciato solo e questi sono i risultati, ma soprattutto dobbiamo alzare la testa e ribellarci a questa gente che avvelena i nostri figli, che avvelena il nostro territorio solo per lucrare, solo per farsi soldi. Oggi è toccato a me, ma ripeto domani può succedere a qualsiasi persona, quindi vi invito tutti a denunciare qualsiasi illecito ambientale nel nostro territorio perché stiamo parlando di solo a guardare il futuro dei nostri figli. Adesso dunque serve vicinanza e soprattutto un'azione forte, altrimenti il libero cittadino vedrà vanificata un'azione che ha già permesso di far emergere pratiche assurde che avvelenano l'ambiente più di ogni altra cosa in una regione bella ed importante come la sua Sicilia. Un filo diretto con la sua invece terra, Natia, che c'è sempre stato. Lo stesso Riccardo Zingaro, infatti vicino alla battaglia intrapresa dall'associazione Onda d'Urto di Andria, che in un messaggio ha voluto ribadire la propria vicinanza a chi lotta per l'ambiente, in particolare a Riccardo e per il futuro dei propri figli.